I carabinieri di Eboli hanno arrestato a Santa Cecilia un 22enne di nazionalità marocchina già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei militari, l'uomo ha infatti tentato di disfarsi di 16 dosi di hashish, successivamente recuperate, ed ha cercato di scappare all'interno della pineta. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di circa 100 euro in contanti. Il tutto è stato messo sotto sequestro. Condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la propria abitazione a regime degli arresti domiciliari.